Salve a tutti, in questo video vediamo come impostare un browser predefinito su iPhone. È molto semplice, basta andare in impostazioni e una volta dentro dobbiamo andare in basso e scorrere fino a cercare l'app in questione che vogliamo impostare come preferita. Qua abbiamo Safari e se ci vado dentro scopro che è già l'app per il browser di default. Però vedete già da qua posso cambiare e mettere Chrome. Torno indietro, intanto vedete qua ci sono altre impostazioni di Safari. Andiamo direttamente a Google Chrome, ad esempio, Chrome, app per il browser di default mi dice che è Safari. Vado qui e gli dico Chrome. Quindi in realtà un po' in tutte le app browser troviamo la lista. Non importa che voi andiate direttamente a quella che volete ma a una qualsiasi e poi entrate qui e da qui potete gestire lo switch. E questo è tutto, spero di essere stato utile, ci vediamo al prossimo video.